Anch'io. Ho dimenticato di dirti una cosa l'ultima volta che ti ho visto. Vale a dire? Sto con April. La tua cheerleader? Credevo avessi divorziato. La situazione è un po' più complicata, ecco. Ci stiamo riprovando. Già. È fantastico. E gli altri? Settore 112, fila 22. Signore e signori, la partita inizierà il ritardo a causa del maldesto. Scusate. Ehi, ciao, Frank. Guarda, siamo al completo, vedo. Boh, come sei cresciuto. Già, loro crescono e noi invecchiamo. È proprio così. Non so se lo sapete, ma abbiamo fatto un atterraggio d'emergenza. April, come sta? Ce la farà. Helen mi ha spedito a riprendervi. Dobbiamo andare via. C'è un uragano in arrivo che investirà la zona. Dobbiamo uscire da qui prima che il fiume estrarifi. Questo vento è fortissimo. No, aspetta che adesso inizia la partita. No, finita. Dobbiamo uscire da qui. Signori, a causa delle pessime condizioni meteorologiche, la partita è stata annullata. No, 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 no. Andiamo, andiamo, andiamo. No, andiamo. No, andiamo. No, andiamo. Dai tranquilli. Ma che c'è? Presta, ci siamo. Non lo sconare. Mi raccomando. Prendiamo delle masche. Tieni questo. Sì. Andiamo. Pensaci tu. Per te, papà. Si sta succedendo qui. Sarà lo stesso da Ella e Nemora. Andiamo. Merda. Era una bella partita. Avremmo vinto. Andiamo, coraggio. Da questa parte. Per fortuna il 7 non è ancora stato soppresso. Non ho campo. Anch'io. Andiamo al Bale Staur. Devo portare Ellen e Nemora in salvo. Al Bale Staur è dove Ellen ha detto che ci sarebbe...